Eccolo qua, oggi parliamo del cuore, l'organo più importante della nostra vita. Il cuore ci aiuta a innamorarci, a stare bene, ma per fare tutto questo dobbiamo avere un cuore sano e per fare questo basta seguire SIPREC, la società che si occupa della prevenzione cardiovascolare. E non solo, tantissimi consigli li potete anche vedere su salutecuore.it, andate lì e li seguite, sono tutte elencate, bisogna soltanto farlo. Il cuore è la cosa più importante, ci aiuta a vivere, a stare bene, quindi la prevenzione è fondamentale. Detto da un napoletano, Napoli è stata eletta città della prevenzione cardiovascolare, una cosa meravigliosa, finalmente una bella notizia su Napoli e non sempre quelle cose brutte. Detto da un napoletano, faccio questo mestiere, cerco nel mio piccolo di alleviare, anche io di dare qualche gioia, si dice che una risata fa bene al cuore, quindi venite, seguite i miei spettacoli e starete molto meglio, voi venite e io vi accolgo con il cuore. Un bacio e un saluto affettuoso alla società Siprec che veramente si ad opera tantissimo. Grazie a tutti.